2 1 bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro dico nostro anche se non c'è la pamina nuovo contest oggi ragazzi siamo arrivati all'appuntamento numero 19 e meno male che ce l'avete fatta a raggiungere il numero di iscritti che vi abbiamo chiesto siete stati bravi siete stati bravi per questo ragazzi meritate assolutamente un bel buono da 10 euro uno di voi si porterà a casa appunto questo bonus che potrà spendere come preferisce ricarica telefonica portafoglio ps4 xbox one o pay safe card dovete solo commentare questo video con la parola segreta che sto per dirvi non mi viene in mente nulla non mi viene in mente nulla mi raccomando ragazzi commentate con questo non era preparato non era preparato questo video noi estrarremo in live ovviamente oggi alle 22 mi raccomando siate presenti un solo commento e buona fortuna ciao